Dopo che il Consiglio di Stato ha detto no all'abbattimento dei cervi, rinviando al Tarre il pronunciamento nel merito, ma passerà molto tempo, le opposizioni in Consiglio sono tornate a dire la propria, a esprimere soddisfazione, ma chiedono al tempo stesso che l'assessore imprudente, autore della delibera tanto contestata, rimetta le sue deleghe. Esprimiamo innanzitutto grande soddisfazione e con orgoglio rivendichiamo la grande unità che si è creata tra la politica, l'opposizione e tutto il sistema e il mondo che sta a tutela, a difesa dell'ambiente. Abbiamo chiesto che l'assessore rimettesse le deleghe a Marsiglio perché è il terzo frontale che prende. La vinca fatta nel 2009, hanno detto, non può essere sempre valida. Abbiamo visto che si tratta di una sospensione che è una bocciatura su tutta la linea perché si entra nel merito. Il Consiglio di Stato definisce l'assoluta mancanza del monitoraggio, quindi scrive nero su bianco che è stata omessa un'attività fondamentale rispetto al piano faunistico venatorio che il Regione Abruzzo aveva deliberato anni fa e suggerisce anche ulteriori azioni che il Regione Abruzzo può mettere in campo come per esempio la creazione di recinzioni, come gli attraversamenti per la fauna selvatica, tutte misure alternative che erano emersi nei tavoli della Commissione a cui abbiamo portato numerose associazioni. Un primo intervento la Regione già lo aveva fatto ieri di risposta con il Presidente Marsiglio e l'assessore Imprudente che avevano semplicemente detto che attenderanno il giudizio di merito serenamente per il quale sarà fissata specifica udienza. Il Tar dovrà valutare nel dettaglio i contenuti della delibera adottata dalla Giunta. Imprudente oggi ribadisse lo stesso concetto ma nessun passo indietro rivendica la bontà del lavoro fatto. Aspettiamo serenamente il merito così come non abbiamo esultato quando il Tar non ha dato la sospensiva anche oggi non cambia nulla. Aspettiamo il merito rispetto a una cosa che abbiamo fatto seguendo quelli che erano gli indirizzi dati e gli atti fatti da uno studio che fa questo tipo di attività in tutta Italia anche a livello internazionale seguendo e rispondendo perisseguamente a quello che è stato il parere di Ispra che ha condiviso il percorso tracciato con un approccio tecnico scientifico che ha portato a un riequilibrio ambientale. Siamo sereni rispetto a questo quindi noi abbiamo fatto il percorso che dovevamo fare e aspetteremo il giudizio di merito.